La Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche è una facoltà composita e articolata che conta ben 8.000 studenti che studiano e frequentano le lezioni nel polo di Sant'Ignazio e nel campus Areisu. Si compone di tre dipartimenti, il Dipartimento di Giurisprudenza che offre il corso triennale in scienze dei servizi giuridici e il corso di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza. Mette a disposizione per gli studenti che vogliono proseguire gli studi anche la scuola di specializzazione nelle professioni legali. C'è poi il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali che propone tre lauree triennali, la laurea in Economia e Finanza, la laurea in Economia e Gestione Aziendale e la laurea in Economia e Gestione dei Servizi Turistici che viene svolta nel polo di Oristano. Infine per coloro che vogliono proseguire gli studi c'è la possibilità di iscriversi alle lauree magistrali in Scienze Economiche e in Economia Manageriale. All'interno di quest'ultima è anche presente un corso interamente in inglese per la specializzazione in International Management. Infine il Dipartimento di Scienze Sociali delle Istituzioni propone due corsi triennali, la laurea in Scienze Politiche e la laurea in Amministrazione e Organizzazione. Per coloro che vogliono proseguire c'è la possibilità di farlo all'interno dei corsi magistrali in Scienze d'Amministrazione, in Società Politiche e Territorio e in relazioni internazionali. Gli studi di questa facoltà sono il presupposto indispensabile per l'accesso alla magistratura e per le professioni di avvocato e di notaio. Sono anche fondamentali per coloro che vogliono diventare manager di impresa o essi stessi imprenditori, o esperti per le imprese, per la finanza o per il mercato del credito, o anche esperti economisti a livello locale e a livello globale. Infine per coloro che vogliono accedere alla carriera diplomatica o vogliono avere delle buone chance per i concorsi per l'alta diligenza pubblica. E sono comunque un'occasione eccezionale per tutti coloro che vogliono svolgere una professione di esperti nel settore sociale, politico o legale, con una forte impronta di innovazione e una forte impronta di multidisciplinarietà. Grazie a tutti!